amici di motosport.com ciao a tutti siamo all'appuntamento del sabato vedo antonio ghini vedo quindi il nostro candido siamo alla chiusura della stagione 2003 nel vero 2023 che salto indietro che ci porta praticamente ai responsi definitivi sia della formula 1 ovviamente non del mondiale perché ormai sappiamo tutto ma delle delle battaglie che ci sono dietro e si combattono e c'è la grande battaglia per la moto gp quindi da una parte a budabi da quell'altra valencia antonio da che cosa vuoi cominciare l'analisi di oggi ma stiamo parlando di risultati direi che per celebrare un risultato si parla di vittoria di successo di dominio e allora riflettendo sulle cose che abbiamo visto negli ultimi giorni nelle ultime ore mi riferisco mi riferisco anche a ieri durante le prove striminzitissime devo dire tra i ruchi e le bandiere rosse che c'è proprio dal punto di vista semantico poi una differenza sostanziale perché pensiamo il weekend scorso sinner non vince contro gioco vici ma ha un successo che tenta far parte di quella che è la sua caratura attuale cioè è un tenista di grande successo poi diventerà anche vittorioso in assoluto auguriamoci presto anzi magari con la davis che riesca a fare qualche miracolo lo stesso vale per per bagnaia bagnaia non ha vinto ma ha raccolto un successo importante arrivando secondo a parte che ha rischiato di di prendere di perdere una gara che aveva vinto per cercare di strappare la vittoria però il suo successo c'è stato che metterà con ogni probabilità frutto tra oggi e domani e ancora di più le clerche le clerche a las vegas non ha vinto ma ha avuto un grande successo col suo sorpasso dell'ultima curva eccetera poi c'è il dominio che è ancora un'altra cosa e e e per me il dominio è stato espresso molto bene ieri quando verstappen è entrato nel tunnel tappato dalle due mercedes guarda caso forse è proprio l'ultimo che è riuscito a superare è stato emilton con questo regolamento nuovo che dice che i piloti che che si può superare in quella zona e i piloti dovrebbero stare a sinistra cosa che le mercedes non hanno molto fatto ma questo non conta diciamo che la cosa in sé era abbastanza tra il curioso e il paradossale pensare che rischiassero di incastrarsi lì per andare a girare ma il tempo mancava però credo che questo questa questo modo di comportarsi di verstappen che conferma il fatto che verstappen non è mai cambiato sembrava diventato l'agnellino con questo suo dominio agnellino che dispensava vittoria e allo stesso tempo aveva il massimo rispetto per gli avversari che quando la vittoria bisogna prenderla e lui la vuole sempre tutte le armi sono buone per cui lui il fatto che avessero 18 minuti mi pare per per girare ha dovuto passare sotto il tunnel e questo questo fa parte del dominio quindi possiamo dire successo vittoria dominio sono parole molto spesso usate una al posto dell'altra in funzione delle circostanze ma che poi prendono una loro dimensione precisa in funzione di ciò che accade quindi sarà interessante vedere quali saranno i successi gli eventuali domini e comunque le vittorie tra direi soprattutto domani adesso le moto le lasciamo alla loro storia direi soprattutto domani ad abu dhabi dove ci sono alcune sfide che sono divertenti forse nessuno lo ha notato ma tra gasli e o con ci sono quattro punti il mio augurio è che o con faccia i quattro punti finiscano a pari punti così stanno bravi per tutto l'inverno sono partiti in cagnesco finiscono in cagnesco però con con col fatto che se fossero a pari punti niente palla al centro e quindi devono ripartire ripartire da zero tra l'altro con un alpin poveri devo dire crudalmente crudalmente mortificata sul piano dei motori non gli fanno migliorare il motore che a questo punto vedendo come si è comportata a las vegas è comunque una buona macchina sembra una buona macchina e mi sembra che il lavoro che si sta facendo anche il motore non è poi così male visto che in un rettilineo di un chilometro e 9 come quello della strip alla fine è vero che erano molto scarichi però è anche vero che poi si sono difesi più che bene tant'è che gli altri nel momento in cui hanno chiesto di poter lavorare gli hanno fatto una vera e propria per macchia esatto però è un lungo risale da molto tempo fa o hanno quattamente migliorato il motore in questi mesi dopo che gli avevano detto no la prima volta comunque sia ecco questa mi sembra molto interessante invece la grande la diffida di barletta qui tra sainz alonzo norris potenzialmente le clerche ma le clerche è perché se fosse uno contro l'altro ma uno contro contro tre è un po' difficile per per questo quarto posto che potrebbe non significare niente che però è sempre un traguardo quindi ogni traguardo ha un senso quindi anche questo sarà interessante da vedere poi e poi c'è c'è invece lo scontro ferrari mercedes che da come si è visto ieri per quanto riguarda ciò che ha fatto le clerche indica una ferrari decisamente più abbiamo visite anche oggi una ferrari decisamente più competitiva di mercedes su questa pista anche se molto sensibile a minuscoli dossi perché ricordo io ho avuto l'avventura di essere ad abu dhabi quando quando mi occupavo del ferrari world abu dhabi lo stavamo costruendo e til che stavamo nello stesso albergo mangiavamo insieme eccetera faceva la pista e una delle cose sulle quali puntava e credo è la prima volta che che sento oggi parlare di di una pista non non perfettamente piatta vantava la perfezione della pista che stava facendo e invece science se ne è andato per la tangente in una maniera sorprendente per una pista che dovrebbe essere un biliardo quindi evidentemente la macchina non è una macchina facile quindi una macchina competitiva ma forse un po meno facile di mercedes una mercedes che da come la si è vista in 18 minuti più però la la fp1 che dove dove russell era andato forte relativamente ma aveva migliorato nettamente il tempo dell'anno scorso si è dimostrata competitiva quindi di fronte a questo scenario possiamo dire che sarà una gara interessante poi cosa farà verstappen ha lamentato non trova la posizione brava brava mettiti qui stai buona ecco si è messa brava parlo di corvina corvina che non ha fatto un bel tempo oggi però comunque qui in griglia ecco e quindi e quindi vediamo questa gara che è l'ultima poi tu mi conosci e anche i nostri amici mi conoscono che io poi ho paura che non abbiamo argomenti invece poi in realtà avremo di fronte dei mesi in cui tanta curiosità curiosità fiorerà perché ci sono tante cose sia del regolamento attuale che rimane tutto uguale però le termocoperte e infatti anche le termocoperte rimangono e sia per alcune novità adesso questo la garetta che mi ha fatto piacere vedere che anche il moto gp non è così amata l'hanno reinventata in una maniera che mi sembra che possa mettere in evidenza proprio il vero limite della garetta perché supponiamo che uno durante la garetta per colpa sua o peggio ancora per colpa di qualcun altro non riuscisse poi a fare le qualifiche va a partire in fondo e allora rischiamo di perdere i risultati di un gran premio per aver fatto divertire un po' nell'avanspettacolo il pubblico e non mi sembra personalmente dovendo fare un cambiamento avrei allora buttato il sasso oltre l'ostacolo dicendo bene allora la garetta diventa la gara per lo schieramento di partenza pronti via quella è la qualifica facciamo prima la qualifica della garetta la possiamo fare come qualifica vera e propria poi la garetta e quello è lo schieramento di partenza allora a quel punto c'è anche tutto il discorso strategico il fatto di prendere una posizione in più o in meno piuttosto che stare a ronfolare lì in una posizione qualunque perché tanto comunque quei tre quei due quei quattro punti poi anche un punto di differenza non ti cambia molto invece ti può spingere a cercare con rischio ben inteso di fare poi l'incidente lo stesso ma è un incidente fatto in un contesto di qualcosa che è un traguardo importantissimo come lo schieramento di partenza invece non riuscire a qualificarsi perché nella garetta uno ti ha tirato via la ruota o lo spoiler non ci vuole molto per fermare una macchina e sei andato a finire in fondo e poi dopo la macchina non è più a posto eccetera eccetera boh non lo so comunque prendiamo quello che Antonio sono rimasto abbastanza stupito perché nel pacchetto delle norme che dovevano essere approvate è venuto poi a mancare l'apertura del parco chiuso fra la sprint race e le qualifiche e lì diventa un argomento certamente grosso di discussione perché di nuovo la garetta come la chiami tu rischia di andare a incidere comunque sulla prestazione della qualifica e di conseguenza della gara mi avevano parlato mi sembrava una buona idea quella dell'apertura del parco chiuso nelle norme che sono state approvate o quantomeno ufficializzate non è stato detto assolutamente niente e per me l'altro aspetto strano è che un pilota entra nella concentrazione per disputare una gara si scarica e deve ritrovare la concentrazione per fare un'altra qualifica è strana è una sequenza secondo me non naturale dei passaggi e vedremo quali effetti avrà nelle sei garete del prossimo anno perché questa è una decisione definitiva? è la proposta della Formula One Commission che va al Consiglio Mondiale della FIA e di solito il Consiglio Mondiale ratifica quello che è il frutto come sai della lunga trattativa dei 10-10-10 però se noi facessimo parte del Consiglio Mondiale della FIA faremo le osservazioni che abbiamo fatto adesso che hai fatto tu, che ho fatto io quindi probabilmente non la ratificheremmo questo è un mondo al di fuori di quei famosi 10 che fanno sempre fatica a trovare un punto di convergenza anche sulle idee che possono essere logiche o intelligenti quindi non ti so dire, sono curioso di vedere che cosa succederà e se verranno presi dei provvedimenti in questo senso c'è un'altra norma che mi ha incuriosito, è un paragrafino di una riga e mezzo senza troppo valore ma il concetto è lo sviluppo, anzi la progettazione delle macchine 2026 non potrà cominciare prima del 1 gennaio 2025 ciò significa che chi aveva già cominciato a lavorare, a studiare e cercare delle soluzioni deve aspettare, che lettura pensi di dare tu Candido? perché ci può essere un recondito pensiero dietro questa decisione che può andare in realtà semplicemente oltre i vincoli del budget cap? ma il recondito pensiero l'abbiamo già evocato un paio di volte mi sembra piuttosto paradossale se consideriamo che le macchine dovranno essere più piccole avranno le gomme più strette, avranno un pacco batteria mostruoso da sistemare da qualche parte è pesante, ricordiamoci quando si lavorava con le zavorre spostiamo le zavorre, le zavorre mobili eccetera c'era tutta un'alchimia delle zavorre che poi sono state rese fisse qui con un bestione di pacco batteria così chi ha il colpo di genio di riuscire a guadagnare 3 centimetri un centimetro, abbiamo visto che basta un millimetro in certe cose per spostare i pesi magari ne trae un vantaggio chiedere di fare una macchina che è profondamente totalmente nuova dal punto di vista di quelli che sono le sue masse le sue dimensioni e la dinamica delle sue prestazioni perché con 50% di motore elettrico e 50% di motore endotermico tutto entra in gioco dire cominciate a progettarle come quando hai il compito in classe io mi ricordo quando andavo a scuola penso che ci sia successo a tutti il compito di matematica io andavo in crisi al primo minuto perché dicevo oddio quanto manca e stavo a pensare ai 59 minuti che mancavano e mi finivano subito ecco non riesco a capire tutto questo a meno che non ci sia la sinistra intenzione di voler rimandare tutto di un anno e questo è la possibile record l'abbiamo già vissuto il passaggio alle macchine a effetto suolo doveva partire nel 21 ed è stato trasferito al 22 è anche vera una cosa c'era una varia qui per fare un'analisi completa è anche giusto dire che mentre il regolamento della power unit è scritto, blindato, cambiato ma condiviso sulla parte telaio aerodinamica siamo ancora in alto mare e magari l'idea che qualcuno possa andare a fare degli investimenti e poi si cambia strada e si sono buttati via dei soldi di budget cap potrebbe poi causare una reazione di qualcuno che dicevo ma noi siamo partiti e voi cambiate le regole mentre siamo in piena attività di progettazione può essere una chiave che spiega parzialmente il discorso ma la tua sensibilità mi porta a pensare che il retropensiero non sia poi lontano da una possibile realtà quantomeno un'opzione da giocare certo che se così fosse si allunga la vita di un Max Verstappen intoccabile con la Red Bull è un grande rischio sì ma diciamo spiega ma non giustifica perché il regolamento non sei tu non sono io non siamo noi che dobbiamo farlo sono lì fate questo regolamento e quindi non è allora potrebbero e qui la soluzione ci sarebbe usare l'intelligenza artificiale facciamo il regolamento con l'intelligenza artificiale perché hanno già fatto un'esperienza con l'intelligenza artificiale anzi addirittura una sperimentazione per i track limit e hanno concluso dopo laboriose prove che il sistema più affidabile è quello dell'uomo meno male meno male allora che facciano sto regolamento lasciano stare l'intelligenza artificiale che peraltro rispetto perché è una rivoluzione estremamente affascinante anche se indubbiamente per certi aspetti inquietante bisognerà vedere come l'uomo che è riuscito a sopravvivere a tutto fino a oggi riuscirà a sopravvivere anche a questo a questo fantasma attivo che ha creato lui stesso e che aleggia e che può prendere il sopravvento vedremo se anche Verstappen potrà essere sopraffatto dall'intelligenza artificiale se così fosse avremmo perso tutti perché Verstappen non può perdere se perdesse Verstappen abbiamo perso tutti nelle regole che hanno deciso di cambiare c'è anche l'accensione della luce posteriore per la pioggia automatica decisa da un software che entrerà in azione nel momento in cui verrà definito quello che hanno chiamato l'aderenza bassa non riescono invece a venire fuori dal problema degli spruzzi è quello è quello degli spruzzi è un problema è dura perché perché gli estrattori hanno una capacità di di risucchio dell'acqua che è enormemente maggiore rispetto a quello che è la capacità delle gomme posteriori di evacuarle mentre i paraspruzzi sulle gomme bene o male sono stati provati e in qualche modo funzionavano non c'era il risultato che si voleva e probabilmente si arriverà a un qualche cosa di più spinto che verrà certamente sperimentato nella stagione 24 la FIA su quello vuole andare avanti si parla addirittura di carenare le quattro ruote con sistemi smontabili da utilizzare ovviamente solo quando ci sono piogge monsoniche e non certo lo scrollo che a volte arriva e passa in 5 minuti però è uno dei punti di analisi perché non è tanto la quantità di acqua che può creare il velo dell'acqua planning quanto quello della visibilità che limita molto la sicurezza la formula la formula Indy ha non so se l'ha ancora penso di sì comunque nel posteriore una carenatura che riduce l'effetto degli spruzzi però l'estrattore o gli levi gli estrattori e facciamo ricalcoliamo ritorniamo alle macchine di un tempo e perché no potrebbe essere anche la IndyCar sugli ovali per esempio rinuncia a correre ma per evidenti ragioni di sicurezza io se ti devo dire la verità non è che trovo bellissime le IndyCar da guardare quindi se possiamo evitare di snaturare tutto anche in funzione della pioggia anche no l'idea di avere roba smontabile e rimontabile può essere percorribile ovviamente tutti gli aerodinamici hanno cominciato a storcere il naso raccontando che a seconda di come sono disegnati possono adattarsi a una macchina piuttosto che a quell'altra e quindi ci sono al momento discussioni in corso ma vedremo dove andremo a parare caro Antonio senti finalmente abbiamo avuto una sorta di bilancio dell'anno da parte di Ferrari perché John Elkan ha parlato in questo modo curioso e caratteristico che mi ha risposto alla mia tirata di voce afona esatto le voci afone con questo curioso sistema di parlare a un giornalista e poi diffondere che significa avere un format predefinito è quello e non si esce da quello se c'è una platea di giornalisti le domande arrivano tutto si scalda di più sarebbe bello che provasse a fare questa sfida con i giornalisti John perché John è un uomo intelligente e sarebbe capace di farlo solo che non lo vuole fare per me non lo vuole fare perché cambierebbe quello che a mio avviso ciò che lui vuole essere tutto sommato impenetrabile per cui se dovesse trovarsi una platea di giornalisti saprebbe benissimo cosa dire ma non sarebbe più impenetrabile quindi ci siamo trovati comunque con un bilancio molto buono per Vasseur che è un po' un assegno in bianco è chiaro perché poi Vasseur ha ereditato è arrivato lì era tutto pronto e quindi ha dovuto interpretare la situazione e lo ha fatto bene perché ha insistito ha insistito il fatto che ieri abbiamo visto un Leclerc che ha rifinito abbiamo visto un Leclerc a Las Vegas e anche un Sainz al di là delle disavventure povero quindi il fatto di avere insistito a portare avanti ciò che avevano ottimizzando al massimo è un merito il punto e l'assegno in bianco è questo adesso è riuscirà Vasseur con la squadra che ha con i futuri arrivi annunciati del Presidente stesso a fare quel passo che rimetta in gioco la Ferrari in maniera sistematica e vincente come era successo all'inizio dello scorso anno quindi ecco e questo è il punto la grande scommessa l'altra cosa che mi viene in mente che potrebbe essere questa forse un'opportunità questa mi è venuta in mente adesso lo dico in tutta innocenza avendo una macchina nuova del 2026 perché non studiare quella che sarà la Ferrari dal 2026 in poi impostando dal punto di vista organizzativo e progettuale questo futuro puntando su una figura nuova potrebbe essere interessante approfittare di questa staffetta abbiamo il 2024 il 2025 forse il 2026 forse se cambia tutto cambiamo tutto tu quando dici tutto cambieresti quindi team principal cambierei l'organizzazione poi per cambiare l'organizzazione occorre qualcuno che non fa parte dell'organizzazione ecco mi fermo qua dopo poi tutto il resto viene dietro però arriva lì uno e dice ok adesso fin qui siamo stati così abbiamo di fronte una formula 1 che va con i carburanti sintetici che deve portarsi dietro i skilli di batterie che è più leggera più piccola eccetera eccetera dobbiamo vincere come facciamo a vincere in questo nuovo scenario e va mentre gli altri continuano a fare il loro lavoro vincoli mondiali quindi gloria a tutti quindi non è una punizione ma è una una squadra di combattimento puntata al futuro mentre chi lavora sull'oggi sul domani e sul dopodomani mira ai successi nel nell'arco di tre magari quattro stagioni che è quel famoso spostare l'orologio dicono i tifosi del cavallino che non è mai l'anno giusto quello che va a cominciare no beh io io ipotizzo un titolo mondiale nel 2024 o nel 2025 o se fosse prorogato ancora il regolamento il regolamento nel 2026 ma quando supponiamo che sia il 2026 tutto cambia beh può essere una buona una buona palestra per ripensare al cambiamento partendo dall'organizzazione cioè c'è una logica non dico una cosa garantisco che mi è venuto in mente parlando perché è proprio in funzione di quel comma ma vista la la saggia decisione di prendere un abile Vasseur per uscire da un periodo che era diventato difficile devo dire che nell'intervista Elkan non ha nascosto le difficoltà della precedente gestione tu sei in questo momento incredibilmente ottimista nel racconto perché io ho visto una pietrata violentissima seppur gentile nel racconto tirata a Mattia Binotto perché dice non ha nascosto ho detto non ha nascosto ha detto lì c'era gente che si nascondeva nel definire gli errori ora c'è un team che lavora insieme e riconosce le responsabilità cioè io se devo dare il segno di quello che è il cambiamento mi sembra che sia questo il passaggio fondamentale chi prima scrollava le responsabilità e cercava di scaricarle nella schiena di qualcun altro qui c'è magari qualcuno che la responsabilità arriva addirittura ad assumersela così dice John Elkan da quello che vediamo è vero da quello che vediamo è vero abbiamo visto cos'era in passato abbiamo visto cos'è stato quest'anno abbiamo di fronte contando anche quest'anno perché domani comunque si decide se si riuscirà a arrivare davanti alla Mercedes eccetera eccetera ma abbiamo quest'anno l'anno prossimo un altro ancora per vedere se il nuovo approccio è l'approccio che permette di essere competitivi ai vertici ma di fronte a un regolamento tutto nuovo dovendo comunque programmare il futuro anche a più lungo termine per carità Vassero è giovane può rimanere lì anche 10 anni però l'idea di creare un team completamente nuovo e diverso dedicato al futuro potrebbe essere interessante ecco c'è stata anche una una analisi molto succinta parlando di quello che è stata una vittoria a Singapore della Formula 1 una vittoria la 24 ore di Le Mans nel rientro della Ferrari A nel mondiale Endurance secondo posto teorico della Formula 1 con secondo posto raggiunto e realizzato del team di Antonello Coletta nel UEC che valore ha perché lui ha parlato siamo usciti da una situazione che c'era il fortino della gestione sportiva adesso c'è una sola Ferrari e di nuovo una randellata a Mattia Binotto sì qui io devo dire Binotto in questo non può essere chiamato in causa l'organizzazione interna di Ferrari era tale che Binotto se ci fosse occupato della macchina del UEC cosa fai occupati del tuo non è il tuo lavoro quindi la io la vedo più come come un progresso un progresso del del modo di vedere le corse di crescere non a caso il UEC al di là di tutti i regolamenti strampalati però per esempio nel UEC c'è Amato Ferrari e la sua struttura che fa correre le macchine è come la Porsche che le dà Roger Penske piuttosto che per cui è un altro modo di correre e non è detto che sia sbagliato vale a dire tutte le cose cambiano anche queste stagioni così mostruosamente lunghe possono aver bisogno di organizzazioni più elastiche o di una maggiore indipendenza tra una sezione e l'altra di ciò che è la globalità del lavoro per permettere a certe parti dell'attività che sono magari più stressate dal punto di vista dei tempi e dei ritmi del calendario rispetto ad altre che sono invece stressate dalla necessità di fare altre cose che però non collimano con quelle fa sì che si possano avere delle realtà un po' meno legate tra loro e quindi guidate anche da leader diversi sotto una guida però sotto un leader però più indipendenti ecco quando io dico l'ho detto tante volte e mi sto mettendo a fuoco in questo momento la ragione di quello che dicevo che ho detto in passato ma fino a ieri e cioè che la Ferrari ha un modello della gestione sportiva che non cambia nel tempo è sempre uguale allora cambia tutto nel nostro mondo perché non si deve provare a pensare che anche una struttura di quel tipo può essere cambiata e l'esperienza WEC ci dice che questo si può fare perché collaborazioni esterne compiti ben mirati pianificazione in un certo modo poi porta al risultato quindi forse di fronte a questo orologio che ogni volta bisogna rimettere a posto e non è mai all'ora rivedere un'organizzazione anche in funzione del cambio di regolamento potrebbe avere un senso non c'è ombra di dubbio in settimana abbiamo avuto una bellissima notizia almeno io così l'ho commentata e sono curioso di sapere anche qual è il tuo parere perché la Ferrari ha fatto la richiesta di iscrivere una terza 499p al mondiale del prossimo anno non sarà una macchina della scuderia Ferrari ma sarà a tutti gli effetti a F Corse molto probabilmente nel rosso ci sarà anche lo sponsor Orlen di Robert Kubica che ha provato la macchina a Imola nel corso della settimana e devo dire il fatto che Robert abbia la grande occasione dopo aver vinto il mondiale LMP2 quest'anno con il team VRT possa fare il salto di qualità arrivando a guidare quella rossa che in Formula 1 in qualche modo aveva già raggiunto per correre insieme a Fernando Alonso e che poi quell'orribile incidente gli ha tolto beh mi sembra la restituzione del destino a questo campione a questo pilota che probabilmente in Formula 1 poteva togliersi ben altre ben altre soddisfazioni e beh hai detto tutto tu io quando seppi dell'incidente sapevo già che lui era sotto contratto ormai ed era stato uno shock non piccolo e fortunatamente è riuscito con una volontà esemplare a ritrovare delle prestazioni che sono di altissimo livello anche dal punto di vista della resistenza fisica perché quando subisci uno shock di quel tipo poi non è e quindi speriamo potrebbe essere molto bello potrebbe essere molto bello qui rimane solo questa questa stupidissima legge del balance che rischia di rovinare tutto semplicemente perché a tavolino si dà un chilo in più un chilo in meno un cavallo in più un cavallo in meno un litro in più un litro in meno questo questo è davvero contrario a quello che è il principio delle corse si dice bisogna fare il balance per risparmiare allora eravamo insieme al 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 bugello quando è stata presentata la 499 per questo gruppo di privilegiati clienti che la useranno in questi e la macchina che viene venduta è più prestazionale di quella che corre allora questo è già di per sé assurdo vale a dire costa tanto adesso ci saranno 7 8 9 ormai non c'è non c'è azienda che non debba fare il WEC bene vadano lì quelli che vincono ci stanno quelli che non vincono vanno a casa ma che stiano a casa perché quello che piacciono sono quelli che vincono e c'è sempre qualcuno che vuole battere chi vince quindi non è che se no fare tutto col bilancino poi fanno vincere quello che vogliono loro no non mi piace hai notato che la Toyota ti ha contentato perché dovendo sostituire uno dei piloti ha preso De Vries ho visto ho visto ho visto ma io devo dirti De Vries l'ho difeso povero nel senso che l'hanno buttato fuori troppo malamente d'altra parte però la vita è crudele questo succede in tutti i posti anche nelle aziende ricordo un episodio che definisce bene come poteva essere Marchionne di Marchionne che in occasione di una premiazione non in Ferrari e nell'ambito del gruppo c'erano dei premiati che avevano raggiunto dei risultati importanti e uno ritira il premio poi scende col premio in mano Marchionne era seduto in prima fila si ferma e dice grazie dottor Marchionne sono molto onorato è inutile che sia onorato lei domani esce ecco questo questo è Marchionne e quindi può succedere anche a De Vries di avere questo genere di cosa da parte di Red Bull però 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 bene così come Mick Schumacher che sta trovando spazio in Alpine quindi che possa anche lui capire che non c'è solo la Formula 1 perché c'è questa ossessione che è un po' anche la nostra caro Franco di pensare che esista solo la Formula 1 invece sono anche altre cose a proposito volevo legare l'ultimo filo perché stiamo arrivando in fondo a questa chiacchierata caro Antonio Toyota si era parlato di una collaborazione della Toyota con la McLaren aveva lasciato intendere che al di là del pilotino che la McLaren farà crescere di Toyota ci potesse essere in prospettiva l'arrivo di un motore giapponese anche in Formula 1 e questa prospettiva mi sembra che sia saltata per aria nel momento in cui ieri la Mercedes e la McLaren hanno siglato un accordo che durerà altri cinque anni Sì la McLaren sembra proprio essere tornata ai tempi in cui la Mercedes è scesa in pista direttamente ha preso Hamilton dalla McLaren ed è diventata la Mercedes oggi le due squadre evidentemente hanno una complementarietà che nei tempi perché il contratto è fino al 2003 30 2030 di più 32 30 sono cinque anni sì però la scadenza va oltre perché arriva già fino al 25 sì certo perché esatto ma poi col motore nuovo no sto pensando non è escluso visto che comunque nelle aziende il time to market in generale è qualcosa che si conta spesso sugli anni che questo progetto possa andare più lontano e che Toyota stia effettivamente pensando a un motore di Formula 1 ma oggi il punto è che ci sono più motoristi che team per cui o questo progetto è così in là che arriva al 2032 lo vedremo per carità di Dio oppure forse è svanito forse è svanito mi interesserà di più e mi piacerebbe proprio vederlo il motore della General Motors anche perché gli americani non hanno mai avuto una reputazione di motori super sofisticati loro hanno i motorazzi delle muscled cars belle muscolose cattive ma potenti con grandi cilindrate e così via mettersi e sfidarsi su un motore di questo tipo per General Motors dal punto di vista dell'immagine di marca e dal punto di vista del messaggio potrebbe essere anche una cosa interessante vedremo se i magnifici 10 il signor Ford mette gli adesivi sul motore Red Bull Power Train ci sta che ci sia una reazione americana di General Motors ci sta bisogna vedere se ci potrà stare ma io mi auguro di sì va bene siamo arrivati in fondo a questa puntata Antonio grazie amici di motorsport.com il dittino in alto a destra cliccate il canale iscrivetevi così riuscirete ad avere tutte le informazioni sui video che pubblichiamo su YouTube e commentate qui sotto siamo curiosi appuntamento ovviamente caro candido a sabato prossimo e di storie ce n'è tipo l'uscita dell'Alfa Romeo ma ne parliamo ne parliamo ciao Antonio ciao ciao a tutti ciao ciao buon gran premio ciao a tutti ciao a tutti